Una delle principali asset class del mondo, la principale dopo la valuta, quindi la fiat money, sono le obbligazioni, i titoli di stato e i titoli di obbligazioni corporate emesse all'interno del sistema finanziario del mondo. E' un asset class molto importante, se le azioni sono un asset class molto famoso, insieme anche alle commodity eccetera e alle criptovalute, però in termini di grandezza non sono molto grandi all'interno del sistema finanziario globale. Le obbligazioni invece a differenza sono molto molto più importanti e danno un peso in termini di volume decisamente superiore. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video in cui andremo a fare una cosa fantastica, cioè un mini corso basic sulle obbligazioni, su questa asset class, come è possibile utilizzarla, come funziona, da cosa dipendono i suoi rendimenti, quali tipologie di obbligazioni esistono e come poterle utilizzare. Alla fine ho preparato anche un piccolo esempio pratico dove andremo a fare un'operazione e faremo dei ragionamenti. Ci sono delle logiche che vanno utilizzate e vi assicuro che le obbligazioni sono intanto l'asset class preferita da istituzionali senza ombra di dubbio, ma sono anche l'asset class più ghiotta da alcuni punti di vista quando i tassi di interesse sono molto alti, come in questo momento. E' infatti vero che noi ci siamo dimenticati dell'asset class, delle obbligazioni per tantissimo tempo, anche se io le ho sempre utilizzate perché è una delle mie asset class in cui ho sviluppato una grande conoscenza quando gestivo patrimoni eccetera. Si possono anche creare diverse situazioni speculative, diverse congiunture, anelli concatenanti che vanno a creare degli ibridi, dei prodotti strutturati, diciamo così, che sono molto vantaggiosi, le obbligazioni sono molto utili anche per ridurre la volatilità dei propri portafogli e in alcune situazioni creare grandi speculazioni. E quindi partiamo subito con l'analisi di queste stride, prima però vi chiedo di iscrivervi al canale ovviamente se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione e soprattutto nei commenti fatemi sapere se questo tipo di contenuti nuovo, completamente inedito del mio canale vi piace, scrivetemelo nei commenti ragazzi, confrontiamoci così riusciamo anche un po' a stare sulla stessa linea e lunghezza d'onda. Sarà un contenuto bello tosto, quindi seduti sulla sedia e prendetevi una piccola pausa, ma io come sempre sarò estremamente semplice nelle spiegazioni, estremamente preciso e puntuale, ma il linguaggio basic un po' per tutti ragazzi, anche se qui possiamo spaziare veramente in tanti tanti i tipi di linguaggio. Allora, corso basic sulle obbligazioni, oggi andremo a parlare di una breve introduzione come quella che vi ho appena fatto, poi cos'è un'obbligazione, i tipi di obbligazioni presenti, come funzionano le obbligazioni, rendimenti e rischi delle obbligazioni, come si acquistano le obbligazioni e poi l'esempio pratico promesso con l'acquisto di un titolo di Stato che viene chiamato BTP, il titolo di Stato italiano. Allora, partiamo dall'inizio. Le obbligazioni dopo la moneta e il real estate sono una delle asset class più ghiotte, più importanti nel mondo, perché hanno una caratteristica estremamente chiara. offrono quasi sempre, a differenza di alcuni tipi di obbligazioni che adesso andremo a vedere, un rendimento garantito ed un capitale garantito. Quindi è un strumento che ci consente in pratica di avere la, tra virgolette, sicurezza, ora vi spiego anche poi cosa significa garantito nella terminologia adatta alle obbligazioni. È comunque un asset class che ci può consentire, quindi, di avere un rendimento piccolo, però costante e creare delle rendite estremamente interessanti. Molto simile, per esempio, all'asset class dell'immobiliare, seppur con delle differenze notevoli in termini di oscillazione. Le obbligazioni teoricamente sono un po' meno volatili dell'immobiliare. Dell'immobiliare è un po' più a rischio liquidità, però sostanzialmente il meccanismo è similare da alcuni punti di vista. Bond, BTP, lo spread, il rendimento del decennale, tutte queste terminologie, ragazzi, che cosa significano? Tante volte avete sentito questi termini, probabilmente al telegiornale oppure letto da qualche parte, soprattutto la questione dello spread, che è stato un argomento estremamente significativo legato ai titoli di Stato italiani. Che cosa significa? Allora, tutte queste argomentazioni fanno parte dell'ambito delle obbligazioni, in particolar modo lo spread, giusto come chicca bonus, ragazzi, è una differenza, quindi un differenziale di rendimento di un'obbligazione italiana rispetto a un'obbligazione tedesca, il Bund tedesco, perché i titoli di Stato, le obbligazioni emesse dallo Stato italiano si chiamano BTP, titoli di Stato. Il titolo di Stato invece emesso dalla Germania si chiama Bund, quindi il differenziale tra il rendimento che viene dato da un BTP italiano e il rendimento che viene dato dal Bund tedesco, stessa lunghezza, stessa scadenza, e bla bla bla, si chiama spread. Più è ampio lo spread, più significa che l'Italia si impoverisce ogni anno rispetto alla cugina, barra, amica, non so, definita tra voi, Germania. Va bene, il Bund per esempio è definito Bund, un titolo di Stato come il titolo di Stato americano, il BTP è l'italiano, il rendimento decennale è l'andamento del titolo di Stato italiano a scadenza decennale. Insomma, quando sentite queste informazioni, queste nomi, queste terminologie online oppure alla TV, ormai sapete appunto a cosa si riferiscono, quindi appena chiuderemo questo corso, faremo questo corso. Cos'è un'obbligazione? Un'obbligazione è uno strumento di debito emesso da un'entità, come un governo o un'azienda per raccogliere capitali. Un'azienda o un governo emette un'obbligazione per richiedere del denaro, per farsi prestare del denaro, è un prestito l'obbligazione. Questo denaro lo prestate voi, cioè noi, gli investitori, che possono essere anche altri stati, anche altre aziende, anche retail classici. Tutti possono investire in un'obbligazione. Se andiamo ad acquistare un titolo di Stato, quindi un'obbligazione, prestiamo del denaro allo Stato italiano, in questo caso nell'esempio, e in cambio lo Stato ci dà il tasso di interesse. Un tasso di interesse predefinito a meno di alcune tipologie di obbligazioni che sono strutturate, eccetera. Il tasso di interesse è definito al momento dell'acquisto del titolo di Stato ed è garantito a scadenza a quel livello che noi abbiamo contrattualizzato. Quindi questo è in pratica un po' ribaltare le situazioni, come quando andate, insomma, a comprarvi qualcosa e chiedete il finanziamento per l'acquisto, per esempio, di una nuova macchina o di un mutuo. In quel caso, nelle obbligazioni, voi ribaltate questo meccanismo. Non siete voi a essere i debitori, ma voi siete i creditori, perché prestate il denaro allo Stato e all'azienda o a un altro ente e questo ente terzo vi restituisce, vi contrattualizza la restituzione di un tasso di interesse e del capitale alla scadenza dell'obbligazione stessa. Significa prestare del denaro in cambio di un tasso di rendimento e del rimborso del capitale stesso alla scadenza. Esistono diverse tipologie di obbligazioni e ci sono le obbligazioni, per esempio, a tasso fisso, che sono le più comuni, quelle dove il tasso di interesse che viene pagato al creditore è fissato il giorno dell'acquisto del titolo obbligazionario. Poi abbiamo tasso variabili, dove il tasso di interesse dipende dal tasso di interesse euribor della Banca Centrale Europea, quello che avete visto salire, di cui mi avete visto anche parlare tantissimo se seguite il canale. Poi ci sono le obbligazioni convertibili, che sono convertibili in titoli azionari, le senior, le obbligazioni subordinate, che sono obbligazioni emesse quasi sempre dai istituti di credito e quindi dalle banche e sono obbligazioni che hanno minori garanzie rispetto alle obbligazioni senior, perché vengono rimborsate solo dopo che vengono rimborsate le senior se esiste un evento default della banca e quindi hanno meno garanzia ma più rendimento, quindi sono un pochettino più rischiose e prendono di più. Le linked, che sono obbligazioni fantastiche perché sono linkate all'andamento di un titolo azionario, come di solito è per esempio l'indice azionario. In Europa si usa l'Eurostoxx, in America l'SP500. Le obbligazioni strutturate sono le più fighe di tutti, quelle mi divertivo tantissime, perché sono sottostanti dei costrutti derivati di natura finanziaria, strutturati. Queste obbligazioni vi consentono di fare tante cose, quindi hanno dei livelli di garanzia che appartengono alle obbligazioni ai tasti fissi, come sempre al tasto fisso. Però poi il rendimento è creato da strutture sottostanti che dipendono dalle oscillazioni magari di altri indici, l'indice dell'inflazione per esempio, oppure dal raggiungimento di un'azione di un determinato livello o dal prezzo di una commodity eccetera. Ce ne sono di tanti tipi, sono le più complesse ovviamente destinate solo a un pubblico high level in termini di formazione e a chi fa questo per mestiere. Poi municipali, governative, aziendali, quindi le corporate fond sono quelle governative emesse dalle aziende, le municipali emesse da inti municipali come le città e le regioni per esempio possono emettere obbligazioni e poi quelle governative emesse dagli stati. Ad esempio, obbligazione più comune a tasto fisso, quella su cui oggi faremo anche un esempio pratico, il BTP italiano, titolo di stato italiano. È un'obbligazione molto semplice, ha una determinata scadenza, ad esempio il decennale scade fra dieci anni, ha un tasso del 4%, io percepisco quel tasso fisso al 4% e a scadenza mi restituiranno anche il capitale. Attenzione ragazzi che tutto quello che comprate sui mercati finanziari non ha nessun vincolo di acquisto e di vendita, quindi non esiste un vincolo temporale. La scadenza dell'obbligazione è la scadenza di un contratto, del titolo, ma voi potete sempre rivenderlo sul mercato ogni volta che ne avete voglia. Il vincolo, cosiddetto tra virgolette N periodi, li metto a vincolo, è un'ideologia uscita fuori dal sistema bancario, ma il mercato libero di scambio quando voi comprate un titolo o lo vendete non ha nessun vincolo, ovviamente, e quindi voi potete sempre rivendere il vostro titolo obbligazionario. Il tasso variabile è il CCT italiano, titolo di stato italiano legato al tasso variabile Euribor, o come uscì il tasso Euribor sale la cedola del CCT. Questo significa che il tasso non è garantito, cioè è variabile, dipende dalla oscillazione del tasso di interesse Euribor. Mentre il tasso fisso, il tasso è fisso. Questa caratteristica differenzia le due obbligazioni da un punto molto importante, cioè le oscillazioni sul prezzo delle obbligazioni che ne vedremo dopo quando parliamo anche delle caratteristiche. Le corporate invece sono emesse, per esempio, obbligazioni emesse da Eni, da Unicredit, da una qualsiasi azienda. Un'obbligazione funziona in questo modo. Ha un valore nominale, ad esempio 1000€. Se viene emessa al suo valore nominale, si dice che è emessa al PAR. Se è emessa sopra, si dice sopra il PAR. Se è sotto, sotto il PAR. Le obbligazioni a scadenza rimborsano l'intero valore nominale. Un'obbligazione è emessa quasi sempre al PAR, oppure dipende più o meno sopra, dipende anche dal tasso che viene utilizzato, ma sostanzialmente quello che interessa, ragazzi, è quando la comprate. Cioè non è interessante conoscere il prezzo di emissione di un'obbligazione, a meno che non state partecipando a un'asta, per esempio dei titoli di Stato, quando viene lanciata un'asta e alla vostra banca vi propongono l'emissione di un'obbligazione, di comprarla all'emissione. Se la comprate all'emissione, vi conviene farlo solo se avete fatto i compiti a caso utilizzando anche questo corso, questo videocorso, e sapete che il prezzo di emissione è basso. Allora a quel punto vi conviene comprarla in maniera tale che poi quando viene emessa sale subito di prezzo. A volte mi è successo anche questa cosa, ed è un modo per guadagnare qualche punto percentuale facile, diciamo in quel caso. Però solo se avete fatto i compiti a casa e conoscete questo evento, altrimenti la maggior parte delle volte le obbligazioni conviene comprarle quando sono già state emesse, sono presenti sui mercati, oscillano, quotano ogni giorno, scambiano. Ogni giorno potete comprarle come fate, con un titolo azionario, una criptovaluta, un bitcoin, eccetera, potete farlo in maniera semplice, libera e molto veloce e sapete già direttamente se il prezzo quota sopra o sotto 100, perché 100 è quasi sempre il prezzo di rimborso di un titolo obbligazionario, anche se ci sono delle eccezioni perché le strutturate, per esempio, possono avere un capitale rimborsato a un prezzo più elevato di 100. Capita anche nelle zero coupon, cioè le obbligazioni che sono emesse senza tasso di interesse e che quindi il rendimento è solo sul prezzo che praticamente sale con una linea retta. Poi le obbligazioni, come abbiamo detto, corrispondono ad un interesse cedolare, il rendimento finale ottenuto è dato dalla somma di tutte le cedole incassate più la differenza di prezzo tra quanto venduto e pure rimborsato se la portate a scadenza e quanto acquistato. Vi faccio questo esempio per farvi comprendere come la cedola e il prezzo di acquisto e di vendita delle obbligazioni sono due elementi separati e dovete considerarli separati quando calcolate il rendimento del vostro titolo di stato della vostra obbligazione perché se io acquisto un'obbligazione a 90 e me la rimborsano a 100 avrà un rendimento del 10 punti percentuali, un po' di più del 10% sul prezzo di acquisto ma anche avrò magari un tasso di interesse dato da un cedolo. Quindi queste due variabili dobbiamo considerarle separate, poi risomigliamo insieme e ci danno il rendimento complessivo. Poi un po' anche la stessa cosa come vi dicevo che avviene con l'immobile perché se voi acquistate un immobile lo mettete in affitto, percepite l'affitto che è la nostra cedola in questo esempio e poi però quando andate a rivendere l'immobile dovete farvi calcoli se avete guadagnato meno perché se lo rivendete a un prezzo più basso o allo stesso prezzo ma avendo ripagato notai, spese di ristrutturazione e quant'altro avete avuto una minusvalenza sul prezzo. Quindi il rendimento obbligazionario si calcola così. Prezzo e cedole. Le cedole vanno sommate tutti quanti fino a quando ottenete il titolo obbligazionario il prezzo va calcolato in base alla trade che fate quando lo comprate e quando la vendete. Se è di più avete guadagnato anche sul prezzo. Se è di meno e badate bene a volte molto spesso di meno il prezzo ragazzi perché se comprate per esempio un'obbligazione che restituisce una cedola molto alta vi capita di comprarla anche sopra la pari e questo significa che il prezzo scenderà a scadenza ma non vi dovete preoccupare perché l'insieme delle due variabili magari vi dà un rendimento molto alto. Nell'esempio che vi sto facendo per esempio abbiamo un BTP inventato ovviamente. Cedola al 4% scadenza un anno compro questo titolo di stato a 97 ottengo rimborso a 100 il rendimento totale sarà dato dal 4% della cedola più il 3% differenziale di prezzo. In realtà è un po' di più perché l'ho pagata a 97 quindi non è proprio 3 però io qui ho fatto i numeri precisi per evitare insomma problemi e poi la differenza è veramente finitesimale. Le obbligazioni linked e le strutturate hanno forme di rendimento completamente differenti spesso complesse anche nel calcolo questo consente di sviluppare elaborate strategie di investimento ed anche speculazioni importanti per questo io vi esorto magari chi di voi volesse approfondire ad approfondire la tematica delle obbligazioni strutturate chiaramente è molto più complessa e non possiamo trattare in questo video. I rischi delle obbligazioni abbiamo detto che le obbligazioni hanno il capitale garantito ed il rendimento garantito sono dei asset che ci danno queste garanzie allora perché parliamo di rischi perché seppur noi abbiamo il capitale garantito ragazzi in realtà è garantito da chi? Da qualcuno. Questo qualcuno però potrebbe fare la fine di i vari fallimenti cioè potrebbe fallire ragazzi e andare in default. Se va in default il capitale non è più garantito quindi la garanzia di capitale sulle obbligazioni è strettamente connessa all'emittente dell'obbligazione più l'emittente è a rischio è un'azienda che ha un rating bancario molto basso è un governo che ha molti debiti più è il rischio il default dell'emittente e quindi più l'obbligazione diventa rischiosa perché in realtà non è esente da rischi è a capitale garantito questo è un discorso differente un po' tecnico quindi è stato indicato capitale garantito perché noi abbiamo la garanzia di restituzione di quel capitale a meno di fallimento dell'emittente che quindi è il rischio del titolo obbligazionario e poi ci sono altri rischi perché per esempio le obbligazioni hanno dei rischi legati alle oscillazioni dei tassi di interesse soprattutto e non parliamo poi delle strutturate per esempio che sono obbligazioni che hanno mille rischi in più perché legati appunto alle strutture sottostanti delle obbligazioni. Allora il rischio passo di interesse è senza ombra di dubbio il rischio più importante del titolo obbligazionario ovviamente di questo ne parleremo tra poco poi abbiamo il rischio credito che è il rischio emittente rischio liquidità altri rischi specifici non vi parlo oggi che sono legati appunto ad altre questioni sulle obbligazioni soprattutto linked e strutturate. Rischio di credito emittente se l'azienda che ha emesso l'obbligazione è insolvente si perde il capitale questa è una cosa molto semplice anche se comprate un titolo di Stato qualora lo Stato italiano ad esempio fallisse voi perdete il titolo di Stato le vostre somme perché il vostro debitore non vi può restituire il capitale quindi rischio emittente e rischio importantissimo per i titoli obbligazionari se non che quando voi comprate un titolo di Stato soprattutto di un governo importante è un rischio che comunque esiste ma ha una percentuale e una probabilità di verificarsi molto rara quindi si chiama evento cigno nero seppure è un evento cigno nero perché crea una catastrofe perché poi lì c'è la perdita dell'intero capitale anche se non è del tutto l'intero capitale in quanto poi ha spesso capitato per esempio nella crisi dei mutui subprime del 2008-2009 quando è avvenuta il fallimento di una media di istituti di credito ad esempio o anche aziende importanti degli Stati Uniti una parte di quel capitale gli obbligazionisti lo hanno comunque ricevuto indietro perché entrano nel fallimento dell'azienda e diventano i primi creditori perché gli obbligazionisti sono i primi creditori di un fallimento aziendale quindi i primi che vengono rimborsati sono gli obbligazionisti senior poi tutti gli altri gli azionisti per esempio i ragazzi non prendono praticamente quasi niente perché partecipano alla proprietà dell'azienda quindi qualche retta cioè praticamente niente da un fallimento rischio di liquidità dell'emittente se l'obbligazione non è liquida sul mercato potrebbe essere difficile venderla e quindi bisognerà aspettare la scadenza vi ho già detto che le obbligazioni si possono acquistare e vendere come fate con le criptovalute con una stock sul mercato, un ETF o qualsiasi altra cosa non ci sono vincoli di sorta di nessun tipo però se sul mercato quel titolo obbligazionario non viene scambiato cioè nessuno lo vuole comprare c'è un rischio che si chiama rischio liquidità quindi a quel punto cosa fate? non potete rivenderlo se lo volete liquidare dovete attendere la scadenza del titolo e a forza non c'è soluzione è un po' simile a quando voi provate a vendere un immobile magari in una zona non buona e l'immobile non riesce ad essere venduto magari a un prezzo adeguato e quindi vi resta bloccato per tanti anni rischio liquidità è un rischio interessante anche questo sui titoli di stato per esempio non c'è però in alcuni casi si può andare a verificare quando gli emittenti sono per esempio stati sovranazionali come la stessa BCE o altre tipologie di organi sovrani che emettono anche loro titoli di stato in Europa ne abbiamo tanti rischio tasso di interesse è il rischio più importante secondo me delle obbligazioni il rischio sul quale dedicheremo un po' più di attenzione perché? perché questo rischio invece esiste ragazzi non è una cosa che è legata al fallimento quindi evento cigno nero no per niente questo è un rischio che è presente costantemente nella oscillazione delle obbligazioni e nel calcolo dell'interesse delle obbligazioni come funziona? il rischio tasso e i rendimenti delle obbligazioni sono legati al tasso di interesse della BCE in maniera diretta ciò significa che più sale il tasso di interesse della BCE come abbiamo visto in quest'anno più salgono i tassi di interesse che le obbligazioni corrispondono cioè il rendimento obbligazionario diventa è legato proprio così legato al tasso di interesse più sale il tasso di interesse più sale il rendimento delle obbligazioni come fa a salire il rendimento se io ho un tasso fisso? per salire deve scendere il prezzo di acquisto ragazzi cioè io devo comprare l'obbligazione non più a 100 ma la comprerò a 95 perché mi restituirà quel 5% diciamo circa del prezzo e che andrà sommato al mio tasso di interesse fisso e comporrà il mio rendimento obbligazionario vi faccio rivedere la slide eccola qua la slide che calcolava il rendimento totale delle obbligazioni qui avevamo il tasso fisso che era il cedolare a 4% immaginiamo che il tasso di interesse della BCE viene posizionato più o meno al 7% io vedo il prezzo scendere a 97% e quindi poi avrò il 3% dal prezzo quindi se il tasso è fisso io per far alzare il rendimento totale ho una sola variabile ed è il prezzo, le oscillazioni del prezzo ciò significa che quando il tasso di interesse sale i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso scendono e questo è un link, un legame indissolubile matematico e quindi sempre avviene questa cosa questo significa che seppur i rendimenti ed il capitale sono garantiti a scadenza nello short term si possono verificare importanti oscillazioni dei prezzi se i tassi di interesse salgono i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso devono scendere e qui cade il nero come si suol dire? cioè il vostro rendimento sarà comunque a scadenza quello che avete pattuito il giorno che avete comprato l'obbligazione ma nello short term le oscillazioni sul prezzo vi potrebbero bloccare la vendita delle obbligazioni per esempio potreste aver comprato un'obbligazione a 95 e poi durante un'obbligazione molto lunga per esempio una scadenza ventennale durante le oscillazioni di quel ventennio ritrovarvi l'obbligazione a un prezzo di 70 e quindi anche se state comunque percependo la cedola ogni anno perché le cedole vengono pagate nei titoli di stato ogni sei mesi ragazzi una cedola annuale divisa in due tranche allo stesso tempo non potete liquidare il titolo se non volete assumere poi una perdita quindi i tassi di interesse il rischio tasso di interesse impatta moltissimo sul rendimento delle obbligazioni fare una serie di considerazioni di analisi su quelli che sono gli andamenti dei tassi di interesse e delle prospettive future dei tassi di interesse della BCE è fondamentale per comprendere quale tipo di obbligazione andare a utilizzare secondo il vostro orizzonte temporale le vostre aspettative gli anni che avete e che cosa volete realizzare se per esempio una rendita mensile oppure semplicemente un incremento di prezzo alla scadenza quindi vedete come il rischio tasso è in pratica il più importante nei titoli obbligazionari la diminuzione del prezzo è legata alla scadenza dell'obbligazione e questo è un altro punto fondamentale che voglio imprimere poi andremo a fare un esempio ragazzi vi renderà tutto molto semplice diventerà tutto veramente semplice la diminuzione del prezzo è strettamente legata alla durata che si chiama duration nelle obbligazioni dell'obbligazione stessa più è ampia la durata cioè più l'obbligazione lunga scade fra 20 anni più un solo punto percentuale di rialzo ribasso del tasso di interesse impatta sul prezzo delle obbligazioni in maniera enorme va bene? quindi più la scadenza è corta più il tasso di interesse impatta poco più la scadenza è lunga più un rialzo ribasso del tasso di interesse impatterà tantissimo ragazzi questo significa che se siamo secondo voi le vostre analisi diciamo i vostri compiti a casa che avete fatto in un momento particolare dove i tasso di interesse sono molto alti secondo le vostre analisi e dovranno scendere avere dei titoli di Stato a scadenza lunga potrebbe essere molto vantaggioso perché il ribasso eventuale del tasso di interesse da parte della Banca Centrale Europea spingerebbe il prezzo dei titoli di Stato a salire perché il prezzo del titolo di Stato ha una relazione inversa rispetto al tasso di interesse della Banca Centrale il rischio tasso è più importante nella valutazione dell'investimento su un titolo di Stato il tasso di interesse ha un legame inverso con il prezzo di un'obbligazione ma ha un legame invece diretto con il rendimento di un'obbligazione sale il tasso sale il rendimento che significa che scende il prezzo questo ci porta alla seconda deduzione sale il tasso di interesse scendono i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso non di quelle variabili ovviamente e non di quelle strutturate perché quelle hanno strutture differenti le altre obbligazioni hanno altri rischi ad esempio le LinkedIn possono dipendere dalla situazione di un titolo azionario e quindi sono differenti come si acquistano le obbligazioni? semplicemente presso la vostra banca oppure presso un broker io come broker utilizzo quasi sempre Interactive Brokers che è un broker pro per fare questo tipo di operatività ma soprattutto dedicato se volete comprare i bond degli Stati Uniti per esempio dei titoli di Stati Americani De Giro per quanto riguarda invece l'Europa è più basic però vi consente di comprare anche titoli di Stato con grande tranquillità vi lascio entrambi i link in descrizione come sempre mi date anche una mano con il canale in ultima analisi quindi concludiamo prima di fare il nostro esempio di acquisto di un titolo di Stato Italiano facciamo tutto l'entourage vi faccio vedere dove andare a cercare le informazioni facciamo i nostri andiamo a vedere i nostri numeri le obbligazioni stabilizzano la volatilità di un portafoglio sono importantissime all'interno di un portafoglio perché vi consentono di avere stabilità perché un portafoglio fatto solo di titoli azionari o di ETF azionari oppure di il diritto valute oscilla in maniera enorme ragazzi se invece voi diversificate una parte del vostro patrimonio utilizzando le obbligazioni e negli ultimi anni appunto sono diventati di nuovo ghiotte in quanto i titoli di Stato per esempio le obbligazioni in generale offrono un tasso di rendimento accettabile non altissimo ma accettabile rispetto al passato che era praticamente zero questo vi dà la possibilità di creare appunto portafogli più stabili in termini di volatilità rispetto a quelli singoli azionari consentono di avere un rendimento garantito da destinare ad altri investimenti questa è una kick bonus ragazzi se voi create per esempio un rendimento garantito con un titolo di Stato potete anche decidere di prendere la cedola di quel titolo di Stato e farci un pack azionario in questo modo voi in pratica avete una rendita che vi finanzia un investimento azionario questa cosa è interessante si possono creare tanti giochini io l'ho fatto diverse volte soprattutto se siete molto giovani è interessante da fare perché immaginate avere una somma a disposizione invece di investirla in azioni fate un investimento obbligazionario prendete la cedola ogni anno e quella è il vostro pack per i prossimi 20 anni immaginate una cosa del genere un semplice modo di creare un asset di portafoglio più complesso più intelligente se vogliamo in alcuni momenti storici caratterizzati da tassi di interesse alti possono avere una valenza speculativa importante ragazzi perché perché come vi dicevo prima se il tasso di interesse del banca centrale europea è inversamente proporzionale al prezzo di un'obbligazione va bene se quello scende il prezzo di un'obbligazione sale questo significa che comprando un'obbligazione a duration molto lunga quindi a scadenza lunga rischiosissima ovviamente se il tasso dovesse scendere perché per esempio l'inflazione è andata sotto controllo e si prevede la licenza di tassi di interesse quel titolo obbligazionario inizia la sua risalita ragazzi e quindi vi farà guadagnare molto di più in brevissimo tempo quella è una tipologia di investimento che non è più legata a quello che stiamo dicendo in questo corso ma è di natura speculativa ma si può fare vi faccio l'esempio adesso trasferiamoci su un sito che è Borsa Italiana dove andremo in pratica a vedere che cosa si può fare con un titolo di stato ragazzi ok ragazzi allora siamo sul sito di Borsa Italiana questa è la parte riguardante le obbligazioni io ho cliccato su BTP Italiano e faremo la prova di comprare un BTP Italiano che abbia una scadenza decennale quindi andiamo a decidere di acquistare un BTP Italiano con una scadenza decennale e andremo a definire la cedola vedremo sia la cedola che il prezzo e come il rendimento sarà dato appunto da entrambe le componenti andiamo a prenderci un BTP che scade più o meno intorno al 2033 questo qui e poi vi faccio vedere anche l'esempio di quest'altro titolo di stato quindi li teniamo tutti e due in riferimento allora primo titolo di stato che andiamo a prendere a riferimento oggi è un titolo di stato BTP Italiano tasso fisso novembre 2033 quindi più o meno a 10 anni da questo periodo tasso di interesse vedete 4,35 della cedola cioè la cedola da i 4,35 di interesse poi se scendete ci sono tutte le caratteristiche del titolo di stato le info sullo strumento quindi il ministero dell'economia e finanza e l'emittente garantito da loro non è un subordinato questo è importante il titolo di stato italiano con la tipologia la montare emesso il lotto minimo sono 1000 euro quindi da 1000 euro a multipli di 1000 euro non potete comprarne 1200 insomma roba del genere quindi 1000,2000,3000,4000 quindi così poi abbiamo il tasso cedolare che è in questo caso indicato qui nella denominazione 4,35% la periodicità della cedola che è semestrale ogni sei mesi a partire dall'1 novembre quindi l'1 novembre stacca cedola e poi sei mesi dopo staccherà cedola e così via indica anche la prossima cedola che sarà staccata appunto l'1 novembre ed è pari a in questo momento 2,1631 punti percentuali cioè la metà di 4,35 la data del primo stacco della cedola è stata a maggio in questo caso e la successiva appunto è a novembre allora cosa succede quindi se io acquisto oggi questo titolo che lo stato italiano corrisponderà al mio investimento il 4,35% di cedola lorda ovviamente poi qui bisogna applicare la tassazione che però sui titoli di stato italiani è agevolata al 12,50% sono uno strumento agevolato per quanto riguarda la tassazione nel momento in cui io vado a comprare questo titolo quindi ottengo il 4,35% all'anno per i prossimi 10 anni ma in più ragazzi c'è la componente prezzo che vi dicevo quindi questo è il tasso fisso ma noi abbiamo detto che il rendimento è dato dal tasso fisso dalla cedola ogni anno più il differenziale tra quanto vendo e quanto acquisto in questo momento questo titolo infatti non è quotato alla pari ma è sotto la pari quota a 97,10% questo perché? perché il rendimento che sta offrendo in questo momento per il decennale cioè il 4,35% solo con la cedola è troppo basso in quanto i tassi di interesse in più lo spread e tutto il resto l'ambaradamo che crea il rendimento dei titoli italiani è più alto questo significa che noi dobbiamo avere un rendimento maggiore rispetto a questa cedola e per avere questo rendimento maggiore il prezzo è sceso tanto è vero ragazzi che qualche tempo fa l'emissione è stata a maggio di questo strumento è stato emesso sopra la pari intorno ai 101 poi siccome il tasso della banca centrale europea è salito maggiormente probabilmente neanche le attese sull'inflazione sono salite maggiormente è salito anche il rendimento del decennale italiano questo significa che per farlo salire abbiamo dovuto assistere a una curva discendente sul prezzo della obbligazione quindi l'obbligazione è scesa in pratica fino a 97 ciò significa che se io attendo la scadenza di questo titolo di stato otterrò il 4,35 per ogni anno in termini cedolari e a questo dovrò aggiungere 2,90% di differenziale di prezzo tra 100 che sarà il prezzo di rimborso e 97 e 10 che è il prezzo di acquisto quindi io guadagnerò anche 2,90 in più alla fine dei 10 anni che significa 0,29 in pratica per 100 in più per ogni anno circa ragazzi non è preciso proprio il calcolo lo so che i matematici stanno storcendo il naso ma non posso farlo qui se no non finiamo più alla fine avremo infatti un rendimento a scadenza del 4,77 questo infatti è preciso ve lo portano direttamente che poi corrisponde a un netto di 4,2 quindi vedete come funziona la questione legata al tasso di interesse fisso delle obbligazioni e al prezzo il prezzo è sceso proprio perché il tasso di rendimento effettivo questo che vedete qui doveva essere più alto della cedola che veniva data che in questo momento era 4,35 quindi non bastava prendiamone un altro che è ancora più simpatico questo titolo di stato è settembre 2033 ed ha una cedola bassa ragazzi del 2,45 questo significa che proprio siamo lontanissimi con la cedola dall'avere il tasso di rendimento che a livello di mercato i titoli italiani decennali stanno pagando in questo momento abbiamo visto 4,70 e qualcosa 4,80 per fare questo va bene il prezzo è dovuto scendere a picco ragazzi che sostanzialmente questo titolo di stato sarà sceso nel corso degli anni adesso vi faccio vedere un grafico da paura per farvi capire il rischio tazzo in pratica questa BTP infatti viene venduto a 82,55 questo significa in pratica che noi otteniamo oltre la cedola del 2,45 otterremo anche il 17,45 punti più dal prezzo perché questo prezzo sarà rimborsato a 100 quindi io già so che questo titolo fra dieci anni lo trovo più alto a 100 e mi verrà rimborsato a 100 ovviamente ci arriva piano piano ragazzi però a scadenza quota 100 mi verrà rimborsato a 100 quindi io guadagnerò la cedola 2,45 ma anche il 17,45 dal prezzo sommandole insieme ottengo sempre lo stesso tipo di rendimento alla fine vedete il rendimento effettivo a scadenza sarà 4,7 questo perché perché esiste una regola dell'arbitraggio dei rendimenti quindi i rendimenti delle obbligazioni dei titoli di stato devono essere simili quelle di durate simili questo rende un po' di meno di quell'altro perché scade un po' prima a settembre rispetto a novembre quindi esiste una regola di arbitraggio e quindi si va a livellare il rendimento è uguale per tutti i titoli per questo non ha senso comprare un rendimento all'emissione a meno che l'emissione non è più bassa appunto e quindi andate a guadagnare da lì perché vi conviene comprarlo direttamente in quanto voi sapete già quanto è il rendimento in questo caso se vi viene offerto in emissione un titolo di stato che ha un rendimento per un decennale un rendimento attorno al 5 vi conviene comprarlo perché lì il prezzo salirà immediatamente perché se la cedola è il 5 il prezzo deve salire un pochino perché il rendimento deve essere più basso sono 4,7 abbiamo detto in questo momento quando stiamo registrando ora funziona così sostanzialmente il meccanismo il tasso di interesse quindi il prezzo di questo strumento finanziario ragazzi quando è sceso vi faccio vedere un grafico così per ridere allora questo è quello che succede a causa del rischio tasso in questo punto qui tra gennaio del 2020 2021 e gennaio 2022 e questo titolo lo stesso titolo che vi ho fatto vedere quotava 120 ragazzi 120 quasi 40 punti in più rispetto a quello attuale 33 punti basis point in più durante l'ultimo anno con l'incremento del tasso di inflazione da gennaio 2022 febbraio inizio della guerra questo strumento è iniziato a crollare praticamente al suo naturale livello di equilibrio questo crollo è avvenuto proprio a causa del rialzo del tasso di interesse attenzione perché se il tasso di interesse dovesse ritornare ai livelli precedenti la crisi in Ucraina e la questione dell'inflazione probabilmente assisteremo a una cosa del genere non arriveremo più a questi massimi perché nel frattempo saranno passati troppi anni quindi sostanzialmente si fermerà un po' prima però avete capito quello che intendo in questo contesto avere anche un titolo di stato con scadenza molto lunga potrebbe anche agevolare se i tassi tornano a scendere altrimenti se i tassi continuano a salire e non sono dei tassi attesi in salita come in questo momento attenzione perché potremmo assistere a questa cosa qui e il titolo di stato seppur garantito a scadenza continuerà a scendere perché in pratica deve livellare quel livello di rendimento portare il rendimento al tasso corretto rispetto al tasso di interesse della banca centrale europea il corso sulle applicazioni è terminato ragazzi vi ho spiegato più o meno come funzionano e quello qui dovete fare attenzione fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate iniziate a ragionarci un po' fate il vostro finto portafoglio cercando di capire qual è il vostro orizzonte temporale se siete amanti del rischio volete speculare ad un discorso se non siete amanti del rischio le durazioni non troppo lunghe sono rischiosissime ma se la liquidità per esempio non vi serve con certezza per i prossimi dieci anni e voi dite io non la toccherò mai quella liquidità perché ho la mia liquidità di riserva da un'altra parte allora potete anche dire ok mi sta bene il 5% 4,70 di tasso di interesse lo contrattualizzo e chi si è visto si è visto come si suol dire perché attenderò la scadenza a prescindere dalle uscite azioni del tasso questo è fondamentale da comprendere poi per l'obbligazione ci sono mille cose che si possono fare appunto diciamo le strutturate ma è altro argomento di un altro video fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto lasciatemi un like condividetelo con chi ritenete opportuno e necessario nei vostri canali noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti